Allora ragazzi adesso prepariamo lo starter, portastecche, qua mancano dei portacupolini che verranno messi dopo, questo è il portastecche che uso di solito, vedete che è già stato propolizzato va anche meglio così, lo metto dentro, lo lascio dentro un paio di giorni in modo che la famiglia possa dargli l'odore, questa è un'operazione che non è indispensabile da fare assolutamente, è un'operazione che va fatta magari quando abbiamo il portastecche nuovo, mai usato, dopo di che si può evitare anche di farlo, allora come sapete io uso la paretina mobile per far tirare le celle dei miei traslarvi, la paretina mobile l'ho già usata anche l'anno scorso, lo ritengo un prodotto valido sotto molti aspetti perché è estremamente versatile ed è anche molto molto comodo da utilizzare, allora qua c'è la regolazione per far si che la paretina sia aderente all'arnia, anche sotto si può regolare, l'anno scorso io ho nastrato lo scudo di regina lasciando solo una finestrella libera, parlando con i ragazzi che lo producono mi hanno detto che non è necessario nastrare, che le celle vengono tirate ugualmente, io lo uso sia per far tirare le celle nello starter, lo uso sia per fare il blocco di covata, quindi confino la regina dentro nel nido utilizzando la paretina, ci sarebbero altri mille modi, ad esempio su una cassa scarsa potrei far andare avanti una famigliola e far fecondare una regina, quindi si mette davanti all'arnia, alla porticina questa che è la porticina magnetica, c'è la possibilità di farlo diventare un diaframma e c'è la possibilità di farlo diventare un nutritore. L'idea che c'è dietro a questo prodotto è quella di utilizzare, di sfruttare al massimo lo spazio che abbiamo dentro l'alveare, io lavoro su otto quindi abbiamo due posizioni libere, c'è chi lavora addirittura su sei o su sette quindi hanno più posizioni libere, in questo modo qua si può fare un mini nucleo dentro una cassa insieme alla famiglia e cercare di sfruttare la sinergia del numero di api, quindi l'idea che c'è dietro è molto molto valida, le attrezzature ce le abbiamo ma molto spesso non sono utilizzate al meglio. Allora veniamo a noi, cosa vuol dire nucleo starter? Allora io opero in questa maniera qua, adesso vi dico come faccio io, vi do i consigli che utilizzo io per fare tirare le celle. Allora delle famiglie brutte che ho ne tengo una, questa famiglia qua fa schifo, fa cagare va bene? La regina fa schifo perché come vedete siamo ormai sotto caccia e cosa fa? un nido che è ridicolo, sono cinque favi, va bene? Adesso non voglio nemmeno sapere il motivo per cui questa regina qua non mi è andata su come le altre eccetera, è una regina così, ce l'abbiamo tutti la regina schifosa, è inutile negarlo, ok? Quindi sfruttiamo anche queste regine schifose qua, va bene? Adesso questa qua non è che me la porto dietro fino all'invernamento, no assolutamente. Questa qua mi serve per tirare le celle, quindi questa qui è una fabbrichetta di api giovani che funziona, cioè funziona, funzionicchia, però per quello che dobbiamo fare è sufficiente. Adesso gli diamo uno sguardo dentro, vediamo che anche la genetica non è che sia delle migliori perché come ho tirato sul telaio si sono messe subito a volarci addosso eccetera. Qua abbiamo un po' di covatta fresca, corone non ce n'è, insomma l'ho messa su cinque favi ma questa qui non c'è un po' di covatta fresca, non ne lavora secondo me di più di cinque, è una famigliola che addirittura ha dei cupolini nonostante sia messa così. Questa famigliola qua mi va bene così finché faccio tirare delle celle, ok? Quindi questa reginetta qua mi fa nascere delle api giovani che a me servono per tirare le celle, non è una regina che chiede più spazio di questo quindi mi va bene perché sta lì nella sua parte senza andare a invadere la parte invece che sarà quella dedicata allo starter, ok? Vedete che è molto scarsa, se volevo assicurarmi che non fosse orfana ma non dovrebbe essere orfana, fa proprio schifo di suo, lo sapevo l'ho tenuta apposta. Allora anche qui abbiamo della covatta mista, eccola qui la regina, sembrerebbe anche una bella regina vista così, ma quello che ci può dare è questo, eccola la, bella regina, sembra anche grande, ma non vuol dire nulla. Allora a noi serve una regina che ci dia api giovani, ok? Questa qua ci da 3-4 telaie di api giovani, il ricambio ce l'abbiamo perché lei continua a fare il suo lavoro, continua a covare per quello che può, fa la sponda, c'è un po' di miele, adesso pochissima roba, produciamo regine noi nel periodo in cui ci sono le fioriture, quindi acacia, indaco e tiglio, poi ci fermiamo e questo è quanto. Benissimo, allora adesso inseriamo la paretina, allarghiamo al massimo, allarghiamo al massimo anche sotto, perché non voglio che mi scappi, adesso prendiamo la misura, vedete che copre chiude bene qua, chiude bene qua, adesso noi chiudiamo da una parte, dall'altra, facciamo scendere in maniera più precisa possibile la paretina, ecco qua, adesso facciamo scendere la parte di sotto, allora quando si trova in questa posizione qui, dobbiamo piegare il dentino, perché altrimenti siamo fuori, fuori dalla cassa, quindi noi ce ne freghiamo, il dentino lo pieghiamo, dovete assicurarvi che la parete sia assolutamente aderente al bordo e al fondo dell'arnia. Ok, adesso ci mettiamo la griglia, così, così la regina resta a lavorare dalla sua parte, vediamo che magari non sia caduta qua, quindi la regina rimarrà di lì, mettiamo lo starter qua, adesso lo starter rimane qua per qualche giorno, poi io torno fra un paio di giorni con Elena a fare traslarvi, facciamo così, due e questo il nutritore rimane sempre. Allora cosa succede? Io torno fra un paio di giorni, vengo a fare traslarvi, quindi faccio gli innesti, prendo le larve e le metto dentro ai portacupolini e metto il portastecche proprio in questa posizione, dopodiché faccio lo scambio, questi due telaini qua vanno nel nido e dal nido prelevo i due telaini con più covatta fresca, questo serve per richiamare le nutrici da questo lato, altrimenti rimarranno di là. Ok, quindi succederà che io porto di qua due fave di covatta fresca, dopodiché aspettiamo che la covatta sfarfalla, ovviamente c'è da fare il giro ogni settimana come in scellatura, in periodo di sciamatura, si vengono a scellare anche questi due fave qua di covatta fresca perché essendo da questa parte potrebbero tirare celle, anche se di solito non lo fanno perché le tirano già qua, e andiamo avanti così, ok, quindi due fave saranno scambiati periodicamente di qua e di là, la covatta fresca la portiamo da questa parte, le api giovani arrivano, trovano le celle innestate e compieranno il lavoro, quindi molto semplice, va bene per chiunque, va bene per qualsiasi apicoltore, anche alle prime armi che vuole provare a farsi un po' di regine fai da te, non richiede abilità particolari e soprattutto è efficace, è efficace perché quella famiglia qui, se noi vediamo che insomma la popolazione comincia a essere discreta, ci può dare anche del miele, io l'anno scorso una famiglia del genere ci avevo messo sul melario, ma aveva fatto anche un bel melario sulla fioritura della caccia, io adesso vado avanti con le visite, spero che il video sia stato interessante e utile per voi, che vi abbia dato dei buoni spunti, quindi sia per quanto riguarda la preparazione dello starter, che per quanto riguarda l'andamento stagionale, insomma, siamo messi così come siamo messi, speriamo che il tempo si sistemi finalmente, si dia una regolata, io vi saluto, vi do appuntamento in un prossimo video, mettete like, condividete, iscrivetevi soprattutto e abbonatevi se volete avere i video subito in anteprima, vi invito anche su Discord e su Telegram, fateci un pensiero, ciao a tutti ragazzi!